Per i nostri eventi del territorio parliamo quest'oggi con alcuni rappresentanti del WWF di un referendum che sta per avvenire fra pochi giorni e che riguarda le trivelle, giusto? Io qua vicino a me ho Diana Prince, ho Graziello Rossini e Dario Canaccini. Bene, allora Diana, che cosa volete dire per le trivelle? Che cosa succede? Che cosa fanno queste trivelle? Riguardo le trivelle, in questo specifico aspetto del referendum, riguarda le trivelle all'interno dei 12 milie marine dalle coste italiane, per cui quelli oltre quelli 12 e quei limiti non vengono considerati in questo quesito del referendum. Il quesito riguarda le trivellezioni all'interno di quel limite e la possibilità di non poter rinnovare le concessioni dopo i loro naturali termini. Perché attualmente, anche se c'è un limite a ogni concessione, c'è praticamente un automatico rinnovo fino all'esaurimento del giacimento. In parole fruibili dai nostri telespettatori e anche dai bambini che magari ci seguono, qual è il danno che fanno queste trivelle? Il danno è senz'altro ambientale, perché ci sono delle postazioni all'interno, lungo la costa, ma soprattutto è anche un discorso per quanto riguarda le energie, che sono sempre energie fossili. Quindi quello a cui vogliamo andare mentre incontro è quello di avere investimenti sulle energie rinnovabili che comunque fanno sì che sappiamo essere una fonte meno inquinante e inesauribile. Quindi il messaggio che deve essere dato è quello di innanzitutto andare a votare il 17 aprile in maniera tale che poi si possa raggiungere il quorum. E comunque anche se non si raggiungesse, se si avvicina a questo quorum, dare un messaggio. È già un buon risultato, vuol dire che le persone sono sensibilizzate al problema. Visto anche che c'è stato in parte un boicottaggio da parte di questo referendum che è stato messo non insieme con le amministrative, perché sembra proprio che sia stato, è un messaggio chiaro ci è sembrato a noi. Stiamo facendo dei notevoli passi indietro per quanto riguarda la protezione, la tutela dell'ambiente, degli animali. È veramente un momento assurdo per tante ragioni. Io non so se anche voi la pensate così, ma si sta andando avanti, anziché avendo un'evoluzione. A me sembra di essere tornati a 50 anni fa. Non lo so, queste ragioni. Ci dovrei riflettere su questo in particolare. Però quello che è importante è forse che il governo non deve tornare indietro. Cioè nel senso che bisogna ricordarsi che tre mesi fa l'Italia ha firmato un accordo alla fine del COP21, la conferenza sul clima a Parigi, insieme ad altre 194 nazioni, ha firmato un accordo per impegnarsi ad andare in una direzione, verso una transizione dal uso dei fonti fossili verso un uso sempre più limitato e ridotto di questi fonti fossili. Prima di tutto il carbone, che fortunatamente effettivamente questo si usa sempre di meno e si sta chiudendo, diciamo, non facendo più l'uso del carbonio, sempre di meno. E perciò cerchiamo di andare avanti su questa linea. Sì, dopo il petrolio e poi anche il metano, che chiaramente è considerato un fonti fossili di transizione, perché è quello, diciamo, meno danoso. Però il governo deve, diciamo, prendere e cominciare a fare delle strategie decise in una direzione e continuare a trivellare e, diciamo, va nella direzione sbagliata. Cioè praticamente continuare sullo status quo senza cambiamento di rota. E la cosa più importante è questo, secondo me. Essere coerenti. Nostro Canaccini, avvicinati un attimo, che avrò anche presto in trasmissione, so che siete molto attenti al problema, fra virgolette, diciamo, alla realtà dei lupi, che sono anche nelle nostre zone. Perciò io a te voglio solo far estrarre una promessa che verrai a parlare di questa cosa in diretta, va bene? Sì, va bene. Con immagini dei lupi. Va bene, sì, sì, sì. L'hai promesso davanti a tutti, eh? Ok. Va bene. Le immagini ce le ha bellissime. Grazie a tutti voi, buon proseguimento e ricordiamo che sono tutti volontari. Alla prossima. Grazie.